Il modello Abruzzo nella lotta alle infezioni correlate all'assistenza ospedaliera e alla zonosi è stato uno dei temi al centro della terza edizione del convegno su microbiologia e infezioni responsabili scientifici Giustino Parruti e Paolo Fazzi della Asla di Pescara che si è svolto all'hotel Villa Maria di Francavilla al mare. Nicoletta Veria, assessora regionale alla sanità, si parla di zonosi, di infezioni ospedaliere e di quello che è il modello Abruzzo. In cosa consiste? Sì, l'Abruzzo è in prima linea per affrontare questo problema delle grandi difficoltà che purtroppo si creano dentro gli ospedali per quanto riguarda la possibilità di contrarre purtroppo queste patologie complesse. Che cosa abbiamo messo in atto? Innanzitutto abbiamo istituito un PDTA che vede quali sono i centri di riferimento AB, SPOC per affrontare questa tematica, questa patologia della presa in carico della gestione di queste purtroppo situazioni che si vengono a creare. Ma soprattutto abbiamo istituito una piattaforma a livello regionale dove sono presenti sia l'Istituto Zooprofilattico ma soprattutto anche l'ARTA e le varialze della regione. Una piattaforma che prende in carico quelli che sono tutti i dati della nostra regione ma soprattutto anche una possibilità di poter formare più di 150 sanitari nella nostra regione che gestiscono queste problematiche. Non solo formare gli operatori ma anche formare coloro che formeranno. Quindi vuol dire che siamo una delle prime regioni così come ci viene riconosciuto che sta aggredendo questo problema perché veniamo da poco fuori da un discorso di pandemia e dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Si ipotizza che questo dell'antimicrobico resistente possa essere una delle prime cause di morte nei futuri anni. Si parla del 2049 quindi ci dobbiamo sentire preparati ma soprattutto attraverso formazione, progettazione e procedure ed è quello che la regione sta già mettendo in atto.